Ragazzi buonasera a tutti e bentornati su Crypto Salad, qui Federico è il 29 novembre 2024, Bitcoin 97.000 dollari in questo momento. Ragazzi guardiamo insieme la situazione per Bitcoin che oggi torna in zona 98.500, violiamo un importante livello di resistenza e quindi analizziamo anche la possibilità che ci sia una formazione che potrebbe portare Bitcoin direttamente oltre i 100.000 dollari. Poi ragazzi parliamo di un altro progetto interessante se siete bullish sull'ecosistema di Bitcoin e poi ragazzi parliamo di un airdrop arrivato oggi estremamente importante che riguarda Hyperliquid e parliamo un po' di questa piattaforma e poi ragazzi vi porto un altro possibile airdrop molto simile in arrivo nei prossimi giorni con ancora dei punti da farmare. Quindi se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche, lasciate i vostri messaggi, trovate in descrizione dei link da utilizzare per sostenere il canale. Ragazzi guardiamo insieme Bitcoin, dicevamo 98.500 il massimo della giornata di oggi, le notizie positive sono che violiamo questa zona di resistenza diciamo creata dalla confluenza tra il CPR che vedete queste tre linee e la media mobile dei 50 periodi sul time frame delle 4 ore. Quindi questa zona poteva essere resistenza dopo un primo stop Bitcoin crea dopo questo stop Bitcoin crea un higher low e poi un higher high al di sopra del livello della resistenza. Quindi tendenzialmente la resistenza aspettiamo la conferma eventualmente giornaliera ma dovrebbe essere stata violata e c'è anche la plausibile formazione di un nuovo trend rialzista di higher high ed eventualmente higher low. Bitcoin quindi viola questa resistenza e mette a segno anche secondo me una formazione che potrebbe portarlo il cui target è già sopra i 100.000. Sto parlando di questa formazione, è un cap and handle che conosciamo bene, quindi questa è la cap, questo è il manico e questo è il breakout che stiamo ritestando in questo momento e il target di questo cap and handle se facciamo la estensione dell'1.61 vediamo che è 101.200 dollari l'estensione dell'1.61 quindi questa formazione potrebbe già, diciamo il primo target di questa formazione potrebbe già portare Bitcoin sopra i 100.000 dollari. Solitamente quello che si vede quando ci sono dei target così importanti è l'eventuale superamento del target e poi un flash di vendite che riporta il prezzo al di sotto. Questo è quello che si vede solitamente, non è detto che accada anche in questa circostanza, però questo cap and handle ha un target già sopra i 100.000 dollari. Guardiamo il time frame settimanale per rinfrescare i target, secondo me entro la fine dell'anno potremmo vedere Bitcoin a 116, quindi abbiamo davanti un mese di dicembre che potrebbe portarci fino ai 116.000. Non mi aspetterei di vedere Bitcoin oltre R5 nel 2024. Siamo adesso in questo momento, come vedete in prossimità del target, scusate, oltre R5, siamo in questo momento poco sotto R4, quindi la violazione di R4 porterebbe eventualmente il target di R5 tra le probabilità. Guardiamo un tweet da parte di Quinten, il quale ci ricorda che quando Bitcoin toglie 1.0, anzi scusate, aumenta di 1.0 il suo prezzo, quindi dai 10 ai 100 ai 1000, ai 10.000 ai 100.000, tendenzialmente si assiste ad un importante rally, ad un importante rialzo, quindi secondo me se dovessimo salire sopra i 100.000, magari eventualmente dopo uno scossone iniziale, ritornarci sopra, diciamo che poi la strada verso eventualmente i 150, i 200, quindi sarebbe molto più veloce rispetto a quella che Bitcoin ha impiegato ovviamente da arrivare a 0, a 100.000, quindi dovrebbe essere una strada relativamente veloce, quella eventualmente dai 100 ai 150 e ai 200. Questo è quello che perlomeno ci insegna la storia di Bitcoin. Questo ragazzi è un progetto che probabilmente già conoscete perché è già listato su Binance, capitalizzato, si chiama Stacks, quindi portano gli smart contract sulla blockchain di Bitcoin, quindi praticamente un layer 2 sulla blockchain di Bitcoin, che utilizza come base sicura la blockchain di Bitcoin ed aggiunge la possibilità di costruire smart contract, quindi secondo me se ci sono già delle app costruite su questo layer 2, quindi plausibilmente se siete bullish su Bitcoin e logicamente Bitcoin vi sembra in questo momento irraggiungibile come prezzo, secondo me Stacks potrebbe essere una buona scommessa, diciamo una scommessa interessante sull'ecosistema di BTC. Questa è la chart di Stacks, secondo me positiva, perché abbiamo prezzo che ha disegnato anche qui un minimo, un secondo minimo, un massimo, un altro massimo superiore, e poi un altro minimo superiore ai tre precedenti, quindi siamo chiaramente in un trend positivo per il grafico, qua siamo sul settimanale, e poi ragazzi abbiamo questo livello con questa deviazione, quindi il livello dei 2 dollari, 2 dollari e 9, che rappresenta sicuramente un importante livello di resistenza, ma diciamo sembra ormai vicina l'eventuale violazione di questo livello, quindi la chart di Stacks è, rispetto a molte altcoin, decisamente molto promettente e forte. Questo ragazzi invece è l'aerdrop di cui vi parlavo, se lo conoscete magari ne avete anche approfittato, non è il mio caso, purtroppo non avevo fatto trade su questo PERP DEX, come funziona Hyperliquid? Vi racconto velocemente che cos'è, praticamente c'è stato oggi questo airdrop molto importante, quindi bastava fare qualche transazione su questo exchange decentralizzato, che consente di fare trading in leva, in maniera completamente decentralizzata, completamente self-custodial, quindi a differenza dei DEX, c'è stato questo airdrop molto importante, che ha praticamente airdroppato 310 milioni di token ai partecipanti, coloro che avevano diciamo farmato i punti hype, praticamente airdroppato più di un miliardo di valore in dollari a che aveva farmato hype. Interessante perché non ci sono VC, quindi Venture Capital coinvolti, e in questo momento il token non è neanche listato su un checks, quindi non ci sono ancora checks coinvolti in hype. Quindi c'è stato l'hype genesis, qua c'è un articolo interessante che parla di questo PERP DEX, appunto che si chiama Hyperliquid, che era il principale in termini di volumi, open interest e anche utenti attivi, quindi decisamente un exchange estremamente importante. E ovviamente è molto interessante perché rispetto ai checks, quindi come può essere Binance, Bybit e KuCoin, è completamente self custodial ed è interamente on-chain, quindi ogni singola transazione, può essere l'apertura di un long, di uno short, o la chiusura del trade, devono essere praticamente approvati on-chain, e quindi è diciamo l'elemento della decentralizzazione assolutamente condensato con gli elementi anche di un checks, quindi di un exchange centralizzato. Quindi queste sono piattaforme su cui probabilmente c'è da essere bullish per il futuro, anche se ce ne sono già diversi in circolazione. Questo è il prezzo di Hype, quindi uscito oggi stiamo già a 5.8 dollari, quindi prezzo che continua a salire, e vediamo un po' come si comporterà. C'è in questo momento probabilmente un po' di FOMO, state attenti, voleste comprare in questo momento, però molti utenti hanno ricevuto airdrop da migliaia di euro per aver fatto poche transazioni. Un altro exchange molto simile, che invece che essere su Arbitrum, se non sbaglio come era Hyperliquid, e questo è su Base, quindi su un layer 2 estremamente bullish a mio avviso, si chiama Avantis, quindi nel caso in cui voleste farmare dei punti, degli XP di Avantis, vi consiglio di fare dei trade su questo PERP DEX, trovate un referral link in descrizione, che vi consente di avere degli XP in più, e anche di avere degli sconti sulle FII, ci sono dei PER che vi consentono di avere doppi punti, come per esempio qua Ethereum contro USD, e considerate che la possibilità di farmare dei punti è fino all'11 di dicembre. In questo momento ci sono delle League, che vedete qui, che vi consentono di avere degli extra punti ogni settimana, quindi diciamo che se già fate trading, non vi costa niente, aprite una posizione, chiudete, o aprite una posizione, e fate trading esattamente come le fate su un CEX, e in più accumulate anche dei punti, che potrebbero servirvi per un eventuale Airdrop, che arriverà dopo l'11 di dicembre. E sempre ragazzi mi raccomando, grazie se voleste utilizzare il referral link, che trovate in descrizione, vantaggio per me, ma anche un vantaggio per voi, con uno sconto sulle FII e un boost sugli XP. Quindi ragazzi per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete altro da aggiungere su questo Airdrop di Hyperliquid, se qualcuno di voi l'ha preso, fatemi sapere, grazie per la vostra attenzione, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!